Calanchi di Atri, Cascate del Verde, Gole del Sagittario e Lago di Serranella sono le oasi del WWF che inaugurano il Passaporto delle Oasi, una iniziativa tesa a valorizzare nell'insieme le aree protette e l'economia rispettosa dell'ambiente. L'idea del Passaporto delle Oasi è stata lanciata dal WWF e raccolta dall'assessore ai parchi Donato di Matteo. Questo è proprio uno dei nostri impegni a inizio legislatura, è quella di costruire una rete tra tutte le riserve. Stiamo lavorando in questa direzione, ci sono una serie di passaggi che abbiamo realizzato e che sono veramente parte integrante di questo progetto. L'intento è che il turista visitatore venga invitato ad effettuare in un anno solare la visita delle quattro oasie e dei rispettivi sei territori comunali, fruendo anche delle attività indicate e promosse dal passaporto, cioè bed and breakfast, acquisto di prodotti tipici e pasta all'interno dei ristoranti. Una volta collezionati i timbri delle quattro oasi e di almeno quattro esercizi commerciali convenzionati, tornando in una delle oasi, al visitatore verranno donati dei gadget. È importante fare rete, sottolinea l'assessore Donato di Matteo, che lancia anche il direttorio dei parchi, che avrà il compito di coordinare le attività di promozione e di gestione delle aree protette abruzzesi.